cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago benvenuti al meteo la pressione cede lievemente sul nostro territorio per l'influenza della coda di una perturbazione atlantica che interesserà con qualche pioggia soltanto i settori alpini ma vediamo insieme in dettaglio sul veneto la grafica di venerdì 24 marzo ci mostra uno scenario stabile in pianura con tanto sole annuvolamenti e schiarite invece in montagna con qualche precipitazione specie verso sera temperature stazionarie minime tra 7 e 11 gradi massime invece tra i 14 e i 20 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui cielo coperto sui monti dove verso sera inizierà a piovere altrove più sole con poche nubi sparse temperature minime sui 9 10 gradi massime intorno ai 14 17 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige dove sarà per lo più nuvoloso sui settori settentrionali con alcune deboli piogge a partire dal pomeriggio più asciutto invece altrove temperature minime sui 9 10 gradi massime oscillanti tra i 21 e i 23 all'incirca dal meteo per ora è tutto buon proseguimento in nostra compagnia cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago